Ciao a tutti, vediamo in questo video la preghiera di San Cipriano per trovare l'amore. Preghiera per trovare l'amore rivolta a San Cipriano. Allora, intanto dobbiamo tenere presente questo, che le preghiere sono un qualcosa di trascendente, ovviamente. Possiamo rivolgerle a chiunque in cui noi crediamo. E' ovvio che poi la preghiera tende a diventare un'egregola. Adesso cercheremo di affrontare questo tema. Prima però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tarmasco e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare e abbonandoti potrai ricevere delle risposte precise, mirate alle tue domande. E adesso veniamo al tema della preghiera rivolta a San Cipriano per trovare l'amore. Allora, dobbiamo introdurre il concetto di Egregora, se no non si capisce quello che vogliamo dire fondamentalmente. Non si riescono a cogliere i messaggi. Questo è qualcosa che dobbiamo tenere presente ed è fondamentale. Perché che cos'è una preghiera? Una preghiera è un messaggio rivolto a un'entità. Ma in realtà non è che questa entità esista, l'ha creata l'uomo. Dobbiamo entrare in quest'ottica, è l'uomo che crea Dio, non è Dio che crea l'uomo. Attraverso che cosa l'uomo crea Dio? Dio nel senso dell'Egregora, attraverso la preghiera. Quando molte persone pregano un'entità, un santo, una divinità, di qualunque tradizione, tradizione cristiana, tradizione voodoo, tradizione nel buddismo, in qualunque cosa, vanno a creare un'entità. Perché il nostro pensiero ha questa capacità di creare. E quindi noi dobbiamo rivolgerci a delle entità. Delle entità che andiamo ad alimentare attraverso la preghiera, ad esempio attraverso l'impetrazione. Perché rivolgersi all'entità possiamo farlo come lode o come impetrazione. L'impetrazione è mi rivolgo per chiedere qualcosa, offro una preghiera all'entità. Posso anche fare un'offerta, le offerte di lode, le offerte di impetrazione. L'entità ha acquisito una sua vita grazie alla nostra preghiera, grazie alla nostra, tra virgolette, lode. Quindi noi abbiamo questa possibilità. Vorrei che questo concetto fosse chiaro. Quindi in questo caso presento la preghiera di San Cipriano perché è un'entità cristiana, diciamo, a cui molte persone si rivolgono per ottenere amore. Quindi è un egregore già creato. Quindi io vado ad accogliere, vado a creare un egregore, non vado a creare un egregore, vado ad agganciarmi a un egregore già esistente. Quindi questo per dire che cosa? Per dire che deve essere l'entità al servizio dell'uomo, non l'uomo al servizio dell'entità. Ma questo è un altro concetto fondamentale che dobbiamo tenere presente. Quindi di fatto la preghiera è un atto magico. Quando noi ci rivolgiamo, che ne so, a Padre Pio, alla Madonna del Meggiugore, in realtà andiamo a connetterci con questa egregora che ha creato di fatto l'uomo. E quindi, se questo concetto è chiaro, la preghiera di San Cipriano è una preghiera che ci consente di aggregarci, diciamo, a questo santo che in realtà è diventato una forma pensiero, che può aiutarci quindi affinché possiamo trovare l'amore. Allora, quindi bisogna recitare la preghiera di San Cipriano. È importante, ad esempio, successivamente, magari andare in una chiesa, accendere un cero, rivolgendo un pensiero a questo santo, la candela. Si può fare anche a casa. La candela ha un potere, ha il potere, diciamo, anche qua, del fuoco. Il potere del fuoco sono tutti gli elementi. Nella candela c'è l'aria, la fiamma che brucia, c'è il fuoco. L'aria è il fumo, la fiamma che brucia è il fuoco. La candela è la terra, è la candela che si scioglie, che diventa acqua, praticamente. Quindi, leggo la preghiera e potete recitarla, poi ascoltando questo video, potete recitarla tutte le volte che volete. San Cipriano, tu che hai il potere, fai in modo che io possa incontrare, qua mettete, l'uomo o la donna, siccome cosa siete, l'uomo o la donna dei miei sogni, e che tra noi scatti immediatamente la scintilla d'amore. Intervieni affinché io possa riconoscere lui o lei all'istante come uomo o donna della mia vita, e viceversa. Ti chiedo, d'altra parte, di allontanare da lui o lei qualunque donna o qualunque uomo che possa ostacolare il compimento del nostro destino, e che lui o lei possa, sin da subito, desiderare di stare al mio fianco, e che abbia la certezza che sia io la donna o l'uomo perfetto per lei o lui. Imploro te, San Cipriano, affinché tu ponga sul mio cammino la mia anima gemella, la mia fiamma gemella, con cui possa trascorrere felicemente e gioiosamente tutti i giorni della mia vita. Fa in modo che, subito dopo il nostro incontro, il mio lui o lei non possa vivere senza di me, e che abbi in ogni momento della giornata la mia immagine e la sua mente. In qualsiasi luogo si trovi il suo pensiero sia rivolto esclusivamente a me e al sentimento profondo che nutre nei miei confronti, che io nutro nei suoi confronti. Ti chiedo, San Cipriano, di venire incontro ai miei sentimenti sinceri, facendo in modo che io possa trovare un uomo o una donna che ogni mattina al risveglio pensi a me e che faccia altrettanto prima di andare a dormire la sera. Recito questa orazione, recito questa preghiera, affinché tu possa fare in modo che quest'uomo mi possa amare con tutto il suo cuore e che io possa amarlo con tutto il mio cuore, uomo o donna. Che si inebri del mio odore, che mi tocchi con amore, che mi abbracci per proteggermi e per farmi trovare sollievo dagli avversità della vita. Io allo stesso tempo mi impegnerò a fare lo stesso con lui o lei, amandolo, amandola e rispettandolo, rispettandola sopra ogni cosa. San Cipriano fa in modo che non resti più solo, più sola, che arrivi finalmente la persona del mio cuore e che senta per me un desiderio fuori del normale, che non ha mai provato per nessun'altra persona nel corso della sua vita. Intervieni con la tua potenza, San Cipriano, affinché possa desiderare solo me e che non provi desiderio e attrazione per nessun'altro o altra. Ti ringrazio, San Cipriano, per la tua benevolenza, per la tua protezione e per ricompensarmi prometto di divulgare il tuo nome, la tua parola. Sia sempre fatta la tua volontà. Ecco, questa è una preghiera rivolta a San Cipriano, quindi che è già un'egregola, questo santo, che, questa entità, diciamo, che consente di facilitare, ovviamente vi sono facilitare di trovare l'anima gemella, vi sono altre entità appartenenti ad altri pantheon e ne vedremo delle altre in questa rubrica legata, diciamo, alla magia. Per questo video è tutto, se ti è piaciuto metti un like, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Termasco. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare e abbonandoti potrai partecipare a deposite live mirate dove darò delle risposte alle tue domande. Ciao a tutti!